Oh! Ma... ma che strane piccole creature! Pinco-Panco e Panko-Pinco! Se ci credi burattini dovresti pagare per vederci! E se ci credi persone viventi dovresti salutarci! Questa è logica! Beh, piacere di avervi conosciuto! Addio! Tu cominci alla rovescia! E già, la prima cosa da fare facendo conoscenza è... Stringi la mano! Piacere! Cere! Cere! Questo sogno! Piacere! E poi presentazione! Questa è l'educazione! Davvero? Ebbene, mi chiama Alice e sto seguendo un coniglio bianco, è così? Oh, andartene non puoi! No, sei in visita da noi! Oh, mi spiace ma... Vuoi giocare al nasconderello? Oh, agnello, che bell'agnello, bell'agnello! Voi assistere a un incontro di box? Siete molto gentili, ma devo andarmene! Perché? Perché sto seguendo un coniglio bianco! Perché? Ecco, son curiosa di sapere dove è diretto!